Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto super, super, super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Come vedete mi trovo in una location un po' insolita Non la classica, potrete sentire un po' ritrofico in sottofondo Però il tutto è molto rilassante, devo dire la verità Guardate, qui ho i protagonisti del video di oggi Ovvero i suoni meccanici Non vedo l'ora di proporveli perché sono tantissimi E di prodotti eccezionali Dove mi trovo? Beh, mi trovo nella sede di Coloc I fantastici amici di Coloc Che mi hanno gentilmente invitato qui Sto facendo una serie di video fantastici che vedrete a breve Non so se questo sarà il primo video che vedrete Oppure sarà l'ultimo, oppure sarà in mezzo Insomma, io però vi dico che sono in arrivo tantissimi video Oppure avete visto tantissimi video che sono stati registrati qua Da loro video fantastici Credo che sia un progetto eccezionale Se non sapete chi è Coloc È l'azienda che produce pc assemblati fenomenali Di qualsiasi tipo Trovate ovviamente i link in descrizione al loro shop E soprattutto il link al mio pc La Pietrasema Redition Che è quello che utilizzo tutti i giorni per editare Con cui ho ridato anche questo video Che mi hanno appunto realizzato Mi hanno quindi invitato qui a Napoli Tre giorni per realizzare una serie di video E sono troppo troppo contento Abbiamo realizzato questa scenografia qui Stupenda Non ho mai visto così tanta attrezzatura E direi quindi di cominciare con i suoni Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se non l'aveste ancora fatto Mi raccomando, è importantissimo E in più Vi ricordo di seguirmi su Instagram Per non perdermi nessun aggiornamento Come la mia città a Napoli Link in descrizione Bene Abbiamo un bel po' di suoni da fare E il cammino ci terrà compagnia Quindi cominciamo Sono troppo contento Cominciamo Aopes Per non Aουμε Grazie a tutti. 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 Andiamo con la prossima. Ogni ora ha il suo suono particolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo con la prossima. Grazie a tutti. 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 notte, notte.